Il clamore provocato dalle dichiarazioni del primario del reparto rianimazione del Santimotio di Termoli Germele sui vaccini ha spinto l'ordine dei medici di Campobasso a prendere posizione sull'intera vicenda. Il primario era finito nella bufera anche per essersi sottoposto ad una sola dose di vaccino e per essersi recato sul posto di lavoro senza Green Pass. Scoppiato il caso, il medico si è sottoposto alla seconda dose e nel frattempo è stato inibito dal posto di lavoro. L'ordine dei medici di Campobasso ha convocato i giornalisti per ribadire con chiarezza la posizione in favore dei vaccini prendendo le distanze da quanto dichiarato da Germele. Lo sconcerto più che le polemiche della situazione o di quello che è successo a Termoli è comprensibile soprattutto da parte dell'opinione pubblica e ci mancherebbe. Più che tirati in ballo siamo stati accusati quindi diciamo così in qualche maniera non da tutti ma siamo stati accusati di immobilismo, inerzia o addirittura omissione. Torno a ripetere, lo dico a tutti coloro che ci stanno sentendo, che l'ordine ha giurisdizione e competenza soltanto e solamente nei confronti dei propri iscritti segnalati dall'azienda. Sarò ripetitivo ma non abbiamo potere ispettivo quindi se l'azienda ci segnala l'omissione da parte di un nostro iscritto possiamo agire. Nei confronti degli iscritti in altri ordini evidentemente no. Ad oggi noi non abbiamo avuto nessuna segnalazione ma non potremmo averla avuta nei confronti del primario di Termoli perché torno a ripetere lui è un iscritto dell'ordine dei medici mi risulta di Ancona. Quello che ci premeva era rappresentare all'esterno la reale posizione dell'ordine dei medici per le incombenze e per quello che gli viene diciamo così demandato dalla legge. Se un iscritto del vostro ordine fa dichiarazioni simili a quelle rilasciate dal dottor Germele, voi potreste prendere provvedimenti? Potremmo prendere provvedimenti da un punto di vista non ex legge ma disciplinare. Si va verso la terza dose? Si va verso la terza dose perché i numeri dicono quello se uno si gira ad est vede le situazioni della Romania, dell'Austria, se si gira a sud vede la situazione di Israele e i numeri vanno in quella direzione. Chi non si vaccina, medico o non medico, cittadino o non cittadino, ruba risorse economiche, ruba, disperde risorse economiche che sono necessarie per curare le persone che non sono covid o quelle che sono covid. Quindi io l'invito è fate riferimento sicuramente a quello che dice la scienza, a quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute.